Con Palermo e Catania, Sciacca è stata una delle tre tappe siciliane che la BIM, la casa di distribuzione del film Sicilian Ghost Story, ha scelto per la presentazione del nuovo film dei registi palermitani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Ieri sera alla multisala Badia Grande c'è stata la proiezione del bellissimo lavoro che negli intenti degli autori vuole essere una specie di atto d'amore nei confronti del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, che dopo due anni di prigionia fu sciolto nell'acido. Una delle vendette trasversali più cruente che la mafia abbia mai potuto mettere in pratica. Un film che è naturalmente andato ben oltre la cronaca immaginando la storia d'amore tra Luna e Giuseppe e la disperazione della ragazza a fronte dell'omertà attorno alla sparizione dell'innamorato. Sono 17 giorni che Giuseppe non viene a scuola, gli deve essere successo qualcosa. Il figlio dell'infame a scuola non ci torna più. Dovremmo ribellarci tutti sino a quando non lo trovo. Io non ce la faccio non pensare a lui. È un film che è al cuore anche della nostra esperienza umana e professionale nel cinema. Avete girato a Troina in questi luoghi incantevoli della Sicilia, non sembra la Sicilia rispetto agli stereotipi che abbiamo immaginato. Sì, abbiamo girato a Troina e nel parco dei Nebrodi perché cercavamo una Sicilia di foreste e di laghi e questa Sicilia l'abbiamo trovata lì. Sono posti meravigliosi, poco conosciuti, anche dagli stessi siciliani sono poco conosciuti. E infatti qualcuno ha pure dubitato che fosse Sicilia perché siamo così abituati invece all'immagine del mare, del colore giallo, della Sicilia senza alberi. Eppure questa Sicilia esiste ed è lì, ed è lo scenario del nostro film. Da anni sentivamo parlare di Sciacca e del grande lavoro che Sino Cracappa ha fatto. Purtroppo non avevamo avuto possibilità con salvo di essere qui e quindi quando poi con BIM Distribuzione, la distribuzione che distribuisce il film, abbiamo pensato un tour promozionale in Sicilia, abbiamo detto sì, facciamo tutto quello che volete, però noi dobbiamo andare a Sciacca a conoscere il lavoro fatto da Sino. E quindi per noi veramente oggi è importante essere qui perché ci rendiamo conto, siamo qui da pochi minuti, però che è riuscito a creare una comunità attenta a certi valori culturali e sociali. ed è fondamentale in un posto come Sciacca. A presentare il film anche giovanissimi attori, Giulia, Iedi Klofska e Gaetano Fernandez, ma anche Filippo Luna che nell'immaginario fiabesco del film ricopre il ruolo dell'orco cattivo. Recitare con questo spirito, ritrovarmi nel personaggio di Giuseppe, diciamo entrare un po' subito nel personaggio, lavorare anche con delle persone stupende che ti aiutano ad entrare nel personaggio. Siamo riusciti un po' a trovare quello che cercavamo e quindi sono molto fiero del lavoro che abbiamo svolto. Questa Luna che cerca le notizie di Giuseppe, il film è un po' incentrato su questo ruolo. Qual è stata la tua esperienza? Come la puoi commentare? Luna è una ragazza molto determinata, anche io sono una ragazza molto determinata, quindi è molto simile a me. Però prima di arrivare ad essere Luna abbiamo dovuto fare dei laboratori perché io ero chiusa nel mio mondo e dovevo invece entrare nel mondo di Luna. Quindi questi laboratori, questi mesi comunque prima delle riprese, sono serviti soprattutto a me, oltre a socializzare con gli altri ragazzi e anche a diventare Luna in questo modo. Voi siete esordienti, nel cinema siete esordienti? Sì. Che intenzione avete? Vi piacerebbe continuare? Sì, sì, io sogno di fare l'attrice da quando ero piccola. Speriamo di andare avanti, chissà. È iniziato per gioco, speriamo che non diventi più un gioco.